come state ben ritrovati un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosissimi qui sotto di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte attivate la campanella che fate allora stasera relax scrivetemelo qui sotto domani dopo domani andate da qualche parte beati voi mi raccomando iscrivetevi anche mio canale personale regalo di pasqua un nuovo rosso nero che mi regalate iscrivendovi qui sotto nel link che c'è nella descrizione grazie per chi lo farà e buona pasqua a tutti ovviamente seguiteci anche su instagram mi raccomando dove siamo sempre più presenti e per collaborazioni commerciali per promuovere un'idea sponsorizzare una pagina un marchio un'azienda dei prodotti mandate una mail a milanellolive.com per una partnership se vi va ne parliamo ne scriviamo discutiamo serenamente allora ragazzi nel video precedente abbiamo commentato un po le dichiarazioni di furlani vorrei tornare però su un aspetto in particolare c'è però una possibile svolta una chiave clamorosa in tutto questo che è molto interessante in chiave mercato partiamo subito da che cosa però allora innanzitutto no un accenno intanto al discorso mercato centrocampista ieri si faceva il nome di kefren turam che per me è davvero forte 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 tra le opzioni per il centrocampo c'è sicuramente anche oiberg del tottenham che ha detto non sono contento della situazione al tottenham e fa capire insomma che il suo futuro potrebbe essere altrove anche perché ha soltanto un altro anno di contratto oiberg è un altro papabile per il centrocampo del milan giocatore molto interessante poi voglio capire se ci sarà un ritorno di fiamma però drago giocatore dello schalke 04 che ha fatto un gol e due assist quest'anno giocatore che moncada segue e insegue da diverso tempo che avrebbe voluto portare a milano già a gennaio nel video di questa mattina invece parlavo del discorso riscatti non ho citato erroneamente crunic che però porterebbe nel caso un paio di milioncini due e mezzo poco ma tutto fa brodo con però una situazione che va monitorata è un piccolo allarme c'è perché il fenerba ci potrebbe addirittura ritirare la squadra o iscriversi a un campionato quindi forse venire meno anche la possibilità del riscatto automatico dopodiché sinceramente credo che lo riscatteranno anche dovessero andare altrove cosa non facile quindi diciamo che anche quei due milioni due milioni e mezzo dovremmo metterli nel nel tesoretto e oggi furlani ha detto una cosa sul mercato sul colpo il mercato in entrata dipende da come finiamo la stagione che però non è che ti può portare chissà quale variabile economica sì se tu batti la roma e vai in semifinale hai un altro incasso hai un po di market pool e un po di premi però non è che ballino chissà quantità di chissà quanti soldi dice mercato in uscita dipende dal mercato in uscita cioè riscatti ma anche della possibile partenza di un big spero non di due visto che è stato un po poco rassicurante su teo e su megnan c'è una possibile svolta prima però volevo spendere delle parole anche sul tema tonali altro shock sinceramente ieri poi non ho avuto modo di parlarne e vi ricordo che domani ci sarà un grande ex calciatore del milan qui su milanello domani mattina shock cioè 50 giocate anche in premier league davvero ci fa capire come il vizio fosse a livelli estremi come non riuscisse a controllarsi poi qui so che c'è chi dirà colpa sua sicuramente colpa sua cioè chi dirà chi se ne frega sei uno sciocco sicuramente è stato sciocco però zero pietà e chi dirà invece comunque è una piaga detto questo spiace tanto che stia buttando anni della sua carriera perché adesso rischia di andare incontro a un'altra squalifica dopo questa squalifica di fatto di una stagione e che si aggiungerà a quella attuale situazione è davvero incredibile molto 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 seria che provoca dispiacere perché sta buttando via almeno in questo anno sarà un anno e mezzo poi si vedrà il suo talento poi dovrà ripartire non dico da zero però però da da un gap da delle difficoltà nuove dico una cosa a livello egoistico e quindi dal dal discorso suo il problema dal discorso umano mi stacco per il milan è stata una sala indoor clamorosa pensate se non l'avessimo ceduto bisogna essere a volte anche molto freddi nei commenti se non avessimo ceduto avremmo avuto un giocatore inutilizzabile per tutta la stagione un danno economico un danno pratico perché poi non avremmo avuto poi la possibilità di fare certe operazioni di mercato quindi sicuramente saremmo stati molto scoperti a centro campo e invece con quella cessione ci siamo rifatti mezza squadra questo va detto abbiamo preso con quei soldi pulisic loft to cheek reinders quindi ripeto è stata una sliding door clamorosa che ci ha fatto soffrire perché comunque non è stata una separazione in dolore anzi però poi adesso veniamo invece un'altra possibile svolta però prima volevo dire una cosa sul discorso furlani furlani dice e della punta 50 milioni non è detto che se uno paghi 50 poi renda da 50 vero però è più probabile che uno che paghi 50 renda da 50 piuttosto che ricavare valore da una punta che magari paghi 15 ci sono anche le eccezioni però mentre sul ruolo dell'esterno hai pagato 20 e oggi è un valore molto più alto con pulisic ma potevi farlo sul ruolo dell'attaccante a maggior ragione dopo l'uscita di girù non puoi fare questo calcolo qui se vai a prendere un attaccante a 20 devi farti segno della croce sperare che ragazzi valga poi tanto il minan ha bisogno di un attaccante che non renda 20 un attaccante che renda 50 60 e visto che questa situazione è diventata più problematica con la probabilissima quasi certa uscita di girù e visto che ce la portiamo dietro danni ecco non andrei a vedere profili di speranza magari low cost sull'attaccante non bisogna fare questi discorsi sull'attaccante bisogna investire pesantemente mettete un like se la pensate come me sull'attaccante bisogna prendere il portafoglio bello pieno e tirare fuori i soldi e non pensare e ma tanto spendo 50 non hai detto che renda 50 no se tu dici così è perché non vuoi tirare fuori 50 per l'attaccante del del presente del futuro in mina non può spendere 20 milioni perché se prendi 20 prendi giocatore interessante ma con la componente di scommessa tu devi ridurre il rischio andando a investire dopo tanti anni questa punta ragazzi non deve essere un punto di domanda devi spendere i soldi necessari per rinforzare come si deve devi fare un colpaccio là davanti a maggior ragione lo dirò lo scriverò anche sul mediterraneo di domenica a maggior ragione dopo l'uscita di girù non ti puoi permettere di aspettare il prossimo attaccante devi fare un colpo da 90 non da 90 milioni ma un colpo che renda 90 indipendentemente dal mercato entrato uscito eccetera eccetera il colpo deve essere un colpo costoso ma non perché c'è il gusto di spendere soldi perché quelli forti li paghi è così quelli forti li devi pagare poi a proposito di quelli forti devi pagare due notizie importanti una dalla germania e adesso la chiave di volta la svolta potrebbe essere quella che vi sto per dire una dalla germania dove colleghi della stampa tedesca danno il milan seriamente in pole position per joshua zirze quindi anche in zona bayern monaco la conferma di un approccio sempre più deciso della cmila nei confronti di joshua zirze chissà se vedremo la z di zorro l'anno prossimo al milan ne parliamo da tanto tempo diciamo tanto tempo che a oggi l'obiettivo numero uno poi il mercato come dico sempre continua di venire quello che oggi è bianco poi diventa nero poi magari diventa grigio poi diventa rosso nero speriamo le cose belle diventino rosso nere però anche dalla germania sponda bayern monaco evidentemente sono informati risulta che il milan sia in pole position per l'attaccante olandese del bologna che sta facendo molto bene poi zirze aveva detto tiego morta dove andrà io ti seguirò tiego morta aveva detto zirze dove andrò io ti porterò quindi se viene al milan non so se è un segnale anche dell'arrivo di tiago morta questo non lo so però potrebbe anche darsi sapete che a me non dispiacerebbe affatto mio sogno è conte poi subito dopo metto tiago morta su zirze attenzione però un'altra cosa molto 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 importante perché c'è una sorta di giallo che sembra essere meno giallo allora divaio in una famosa intervista la gazzetta e anche poi privatamente aveva sostenuto e sostiene che la clausola rescisora da 40 milioni per joshua zirze vale soltanto per il bayern monaco in realtà a me un operatore di mercato aveva detto no guarda che vale anche per i club italiani poi ne avevo parlato in un video ricorderete poi tutti dicevano no ma guarda che vale anche vale soltanto per il bayern monaco poi divaio ha parlato ancora i miei colleghi esperti di mercato sentendo divaio privatamente diceva no vale soltanto per il bayern monaco io dicevo magari è suo interesse così che si creda avere l'effetto asta dopodiché questa cosa mi è tornata però avevo anche un po paura a raccontare dicendo boh sono l'unico che la dice sarà la polpetta avvelenata no in realtà anche ieri matteo moretto altro esperto di mercato sostiene che anche per quello che risulta lui la clausola da 40 milioni vale anche per tutti gli altri club quindi anche per il milan questa potrebbe essere la chiave perché tanti dicono zirze è difficile perché poi ti costa 60 70 80 secondo me quella cifra non costa in generale però è chiaro che potresti arrivare a 50 55 60 zirze se fosse vera questa notizia che mi era arrivata e che risulta ora anche al collega moretto significa che tu lo puoi portare a casa 40 ti accordi con l'entourage e il mina sta lavorando da settimane con l'entourage ti accordi fa arrivare 40 milioni all'entourage la clausola la paga poi il giocatore questo il procedimento lo sapete l'esercita il giocatore ovviamente con i soldi del club e tu per 40 milioni ti porti a casa zirze questa sarebbe forse la spiegazione a tutto la chiave di volta la svolta per l'attaccante che non ti costa 50 60 ma ti costa 40 che è una bella cifra è una cifra che devi pagare spendere assolutamente il progetto potrebbe davvero convincere di zee ad accettare il milan a quel punto se è vera questa indiscrezione se è vera questa notizia che c'era arrivata che è arrivata anche ad altri nel frattempo tu spendi 40 e secondo me è una votazione di fronte alla quale devi andare dritto diretto deciso a 40 è un valore importante ma ragionevole ti porti a casa l'attaccante convincendo l'attaccante senza passare dal bologna che interessa ovviamente a scatenare l'effetto asta poi è chiaro che l'entourage ha interesse a far sapere se deve davvero questa clausola non non vale solo per il baier monaco a far arrivare la notizia possibile acquirenti quindi vediamo questa potrebbe essere la grande soluzione e speriamo speriamo ripeto però caro fullani per la punta bisogna spendere 90 almeno 40 perché se spendi di più riduci il rischio di sbagliare per questo non per il gusto di spendere ditemi che ne pensate commentate numerosi qui sotto lasciate un bel like iscrivetevi da questa parte attivate la campanella campanella e grazie per chi si iscriverà nel corso di questo video in questo momento il mio canale personale che vi metto qui sotto nel link mando un abbraccio a tutti e ci vediamo ancora però auguri buona pasqua nel frattempo mi porto avanti un saluto e grazie